cazzo quei dici ai drogloditi che ti salutano così per strano ecco ecco loro come state ragazzi facciamo stavamo facendo un fuori onda invece mettiamolo in onda perché è importante ciao mamma ciao vedi come mi diverto perché non ciao antonio invece perché una sera antonio adesso ma prima dico per tirare l'attenzione così era un solo butturale che cosa che cosa fate alle 4 di pomeriggio in giro per sanicandro di bari ridente cittadina del barese niente un cazzo allora chi la paga la benzina di questa utilità la benzina ce la dividiamo fate un po come giusto che sia come giusto che quanto avete messo 10 che sono quattro litri 10 euro 4 per andare in giro a fare a sbarionare e come come sbarionare come sbarionare che fate così la musica la cintura si ho visto che tassi tolta mentre arrivavi erano sempre quella cittura una cosa personale quindi lui non la prende la multa tu invece se non ce l'hai tu dietro non è neanche dotata no c'era la cintura mica la macchina vabbè ragazzi e quindi cosa possiamo dire rispetto a questa crisi economico ma un globale facili dobbiamo scioperare tu è vero quindi tutti in piazza per forza ma mi sa che lo stanno organizzando lo stanno organizzando e poi ci sarete a tutta l'italia voi ci sarete voi con la macchina metti la benzina prima diciamo lo fancazzismo contro il caro carburante nonostante il caro carburante è giusto fancazzismo contro lo sta contro lo stato che dicono ma sta qualcuno in giro a che sono a sani cannes no è vero cioè siete solo voi tre quindi non potete neanche cuccare non potete neanche farvi vedere dalle ragazze e proprio lo fate per voi si per un divertimento lo divertimento vostro posto di cabari buttano il monopattino no 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 invece lo no no quello sappiamo lo sappiamo noi lo sappiamo a sani cannes sono arrivati i monopattini no non ci sono abbastanza grave è abbastanza grave anzi facciamo un appello al sindaco giannone giannone il monopattino perché i ragazzi le strade bocra 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 lo diciamo per amici di milano perché svarionano anche gli amici di milano è quello di mettere le toppe alle strade va bene arrivano altri due quindi sanicandro e popolata ci sono altri due non li vogliamo fermare altremodo andate ancora una volta a fare il fancazzismo mi raccomando benzina risparmiate potevi spegnere avevi due due o tre chilometri in vabbè ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ora vi riconosco